Il direttore, diciotto, venerdì. Corretti era contento questa mattina perché è venuto ad assistere al lavoro d'esame mensile il suo maestro di seconda, Coatti, un omone con una grande capigliatura crespa, una gran barba nera, due grandi occhi scuri e una voce da bombarda, il quale minaccia sempre i ragazzi di farli a pezzi, il quale minaccia sempre i ragazzi di farli a pezzi e di portarli per il collo in questura e fa ogni specie di faccia spaventevoli, ma non castiga mai nessuno, anzi sorride sempre dentro la barba senza farsi scorgere. Otto sono, con Coatti e maestri, compreso un supplente piccolo e senza barba che pare un giovinetto. C'è un maestro di quarta, zoppo, imbaccuccato in una grande cravatta di lana, sempre tutto pieno di dolori, e si prese quei dolori quando era maestro rurale, in una scuola umida dove i muri gocciolavano. Un altro maestro di quarta è vecchio e tutto bianco ed è stato maestro dei ciechi. Se n'è uno ben vestito, con gli occhiali e due baffetti biondi, che chiamavano l'avvocatino, perché facendo il maestro studiò da avvocato e prese la laurea e fece anche un libro per insegnare a scriverle lettere. Invece, quello che ci insegna la ginnastica è un tipo di soldato, è stato con Garibaldi e ha sul collo la cicatrice di una ferita di sciabola toccata alla battaglia di Milazzo. Poi c'è il direttore, alto calvo, con gli occhiali d'oro, con la barba grigia che gli vien sul petto, tutto vestito di nero e sempre abbottonato fin sotto il mento. Così buono quei ragazzi che quando entrano tutti tremanti in direzione, chiamati per un rimprovero, non li sgrida ma li piglia per le mani e dice tante ragioni che non dovevano far così e che bisogna che si pentano e che promettano ad essere buoni e parla con tanta buona maniera e con una voce così dolce che tutti escono con gli occhi rossi più confusi che se li avesse puniti. Povero direttore, egli è sempre il primo al suo posto la mattina ad aspettare gli scolari e a dar retta ai parenti e quando i maestri sono già avviati verso casa, gira ancora intorno alla scuola a vedere se i ragazzi non si caccino sotto le carrozze o non si trattenga per le strade a far querciola o a impir gli zaini di sabbia o di sassi. E ogni volta che appare a una cantonata così alto e nero, stormi di ragazzi scappano da tutte le parti piantando lì il gioco dei pennini e delle biglie ed egli li minaccia con l'indice da lontano con la sua aria amorevole e triste. Nessuno l'ha più visto ridere, dice mia madre, dopo che gli è morto il figliuolo che era volontario nell'esercito ed egli ha sempre il suo ritratto davanti agli occhi sul tavolino della direzione. E se ne voleva andare dopo quella disgrazia. aveva già fatto la sua domanda di riposo al municipio e la teneva sempre sul tavolino aspettando di giorno in giorno a mandarla perché gli rincresceva di lasciare i fanciulli. Ma l'altro giorno pareva deciso e mio padre, che era con lui nella direzione, gli diceva «Che peccato che se ne vada, signor direttore, quando entrò un uomo a far iscrivere un ragazzo che passava da un'altra sezione alla nostra per chi aveva cambiato di casa». Al veder quel ragazzo, il direttore fece un atto di meraviglia. Lo guardò per un pezzo, guardò il ritratto che tiene sul tavolino e tornò a guardare il ragazzo, tirandoselo fra le ginocchia e facendogli alzare il viso. Quel ragazzo somigliava tutto al suo figliuolo morto. Il direttore disse «Va bene». Fece l'iscrizione, congiudò padre e figlio e restò pensieroso. «Che peccato che se ne vada», ripetè mio padre. E allora il direttore prese la sua domanda di riposo, la fece in due pezzi e disse «Rimango». I soldati, 22, martedì. Il suo figliuolo era volontario nell'esercito quando morì. Per questo il direttore va sempre sul corso a veder passare i soldati quando usciamo dalla scuola. Ieri passava un reggimento di fanteria e 50 ragazzi si misero a saltellare intorno alla banda musicale, cantando e battendo il tempo con le righe sugli zaini e sulle cartelle. Noi stavamo in un gruppo, sul marsapiede, a guardare Garrone, strizzato nei suoi vestiti troppo stretti che addentava un gran pezzo di pane. Votini, quello ben vestito, che si levava sempre i peluzzi dai panni. Precossi, figliuolo del fabbro, con la giacchetta di suo padre, e il carabrese e il muratorino, e Crossi con la sua testa rossa, e Franti con la sua faccia tosta, e anche Robetti, il figliuolo del capitano d'artiglieria, quello che salvò un bambino dall'omnibus e che cammina con le stampelle. Franti fece una risata in faccia a un soldato che zoppicava, ma subito si sentì la mano d'un uomo sulla spalla. Si voltò, era il direttore. Bada, gli disse il direttore, schernire un soldato quando è nelle file, e non può ne vendicarsi né rispondere, è come insultare un uomo legato. È una viltà. Franti scomparve. I soldati passavano a 4 a 4, sudati e coperti di polvere, e i fucili scintillavano al sole. Il direttore disse, Voi dovete voler bene ai soldati, ragazzi. Sono i nostri difensori, quelli che andrebbero a farsi uccidere per noi se domani un esercito straniero minacciasse il nostro paese. Sono ragazzi anch'essi, hanno pochi anni più di voi, e anch'essi vanno a scuola. E ci sono poveri e signori fra loro, come fra voi, e vengono da tutte le parti d'Italia. Vedete, si possono quasi riconoscere dal viso. Passano dei siciliani, dei sardi, dei napoletani, dei lombardi. Questo poi è un reggimento vecchio di quelli che hanno combattuto nel 1848. I soldati non sono più quelli, ma la bandiera è sempre la stessa. Quanti erano già morti per il nostro paese intorno a quella bandiera, venti anni prima che voi nasceste? Eccola qui, disse Garrone. E infatti si vedeva poco lontano la bandiera che veniva innanzi, al di sopra delle teste dei soldati. Fate una cosa, figliuoli, disse il direttore. Fate il vostro saluto di scolari, con la mano alla fronte, quando passano i tre colori. La bandiera, portata da un ufficiale, ci passò davanti, tutta lacera e stinta, con le medaglie appese all'asta. Noi mettemmo la mano alla fronte, tutti insieme. L'ufficiale ci guardò, sorridendo, e ci restituì il saluto con la mano. «Bravi, ragazzi», disse uno dietro di noi. Ci voltammo a guardare. Era un vecchio, che aveva all'occhiello del vestito il nastrino azzurro della campagna di Crimea. Un ufficiale pensionato. «Bravi», disse. «Avete fatto una bella cosa!» Intanto la banda del reggimento svoltava in fondo al corso, circondata da una turba di ragazzi, e cento grid allegri accompagnava gli squilli delle trombe come un canto di guerra. «Bravi!», ripetè il vecchio ufficiale, guardandoci. «Chi rispetta la bandiera da piccolo, la saprà difender da grande!» Il protettore di Nelly, 23, mercoledì. Anche Nelly ieri guardava i soldati, povero gobbino, ma con un'aria così, come se pensasse. «Io non potrò mai essere un soldato!» Egli è buono e studia, ma è così magrino e smorto e respira a fatica. Porta sempre un lungo grebbiale di tela nera, lucida. Sua madre è una signora piccola e bionda, vestita di nero, e viene sempre a prenderlo al finish perché non esca nella confusione con gli altri e lo accarezza. I primi giorni, perché a quella disgrazia d'essere gobbo, molti ragazzi lo beffavano e gli picchiavano sulla schiena con gli zaini. Ma egli non si rivoltava mai e non diceva mai nulla a sua madre per non darle quel dolore di sapere che suo figlio era lo zimbello dei compagni. Lo schernivano ed egli piangeva e taceva, appoggiando la fronte sul banco. Ma una mattina salto su Garrone e disse il primo che tocca a Nelly gli do uno scapaccione che gli faccio far tre giravolte. Franti non gli badò, lo scapaccione partì. L'amico fece tre giravolte e dopo d'allora nessuno toccò più Nelly. Il maestro gli mise Garrone vicino nello stesso banco. Ci sono fatti amici. Nelly si è affezionato molto a Garrone. Appena entra nella scuola cerca subito se c'è Garrone. Non va mai via senza dire addio Garrone. E così fa Garrone con lui. Quando Nelly lascia cascare la penna o un libro sotto il banco subito perché non faccia fatica a chinarsi Garrone si china e gli porge il libro o la penna. E poi l'aiuta a rimetterla roba nello zaino e a infilarsi il cappotto. Per questo Nelly gli vuol bene e lo guarda sempre. E quando il maestro lo loda è contento come se lo dasse lui. Ora bisogna che Nelly finalmente abbia detto tutto a sua madre e degli scherni dei primi giorni e di quello che gli faceva impatire. E poi del compagno che lo difese e che gli ha posto affetto. Perché ecco quello che accadde questa mattina. Il maestro mi mandò a portare al direttore il programma della lezione mezz'ora prima del finish. Ed io ero nell'ufficio quando entrò una signora bionda e vestita di nero la mamma di Nelly la quale disse signor direttore c'è nella classe del mio figliuolo un ragazzo che si chiama Garrone? C'è rispose il direttore vuole aver la bontà di farlo venire qui un momento che gli ho da dire una parola. Il direttore chiamò il bidello e lo mandò in scuola e dopo un minuto ecco lì Garrone sull'uscio con la sua testa grossa e rapata tutto stupito. Appena lo vide la signora gli corse incontro gli gettò le mani sulle spalle e gli diede tanti baci sulla testa dicendo sei tu Garrone l'amico del mio figliuolo il protettore del mio povero bambino sei tu caro bravo ragazzo sei tu poi frugò in furia nelle tasche e nella borsa e non trovando nulla si staccò dal collo una catenella con una crocina e la mise il collo di Garrone sotto la cravatta e gli disse prendila portala per mia memoria caro ragazzo per memoria della mamma di Nelly che ti ringrazia e ti benedice il primo della classe 25 venerdì Garrone si attira l'affetto di tutti De Rossi l'ammirazione ha preso la prima medaglia sarà sempre il primo anche quest'anno nessuno può competere con lui tutti riconoscono la sua superiorità in tutte le materie è il primo in aritmetica in grammatica in composizione in disegno capisce ogni cosa al volo ha una memoria meravigliosa riesce in tutto senza sforzo pare che lo studio sia un gioco per lui il maestro gli disse ieri hai avuto dei grandoni da dio non hai altro da fare che non sciuparli e per di più è grande bello con una gran corona di riccioli biondi lesto che salta con un banco appoggiandovi una mano su e sa già tirare di scherma ha 12 anni è filvolo di un negoziante va sempre vestito di turchino con dei bottoni dorati sempre vivo allegro grazioso con tutti e aiuta quanti può all'esame e nessuno ha mai osato fargli uno sgarbo o dirgli una brutta parola Nobis e Franti soltanto lo guardano per traverso e Votini schizza invidia dagli occhi ma egli non se ne accorge neppure tutti gli sorridono e lo pigliano per una mano o per un braccio quando va attorno a raccogliere i lavori con quella sua maniera graziosa egli regala dei giornalini illustrati dei disegni tutto quello che a casa regalano a lui ha fatto per il calabrese una piccola carta geografica delle calabrie e da tutto ridendo senza badarci come un gran signore senza predilezioni per alcuno è impossibile non invidiarlo non sentirsi da meno di lui in ogni cosa ah pure io come Votini l'invidio e provo un'amarezza quasi un certo dispetto contro di lui qualche volta quando stento a fare il lavoro a casa e penso che a quell'ora egli l'ha già fatto benissimo e senza fatica ma poi quando torno alla scuola a vederlo così bello ridente trionfante a sentir come risponde alle interrogazioni del maestro franco e sicuro e com'è cortese e come tutti gli vogliono bene allora ogni amarezza ogni dispetto mi va via dal cuore e mi vergogno di aver provato quei sentimenti vorrei essergli sempre vicino allora vorrei poter fare tutte le scuole con lui la sua presenza la sua voce mi mette coraggio voglia di lavorare allegrezza piacere il maestro gli ha dato da copiare il racconto mensile che leggerà domani la piccola vedetta lombarda egli lo copiava questa mattina ed era commosso da quel fatto eroico tutto acceso nel viso con gli occhi umidi e con la bocca tremante ed io lo guardavo com'era bello e nobile con che piacere gli avrei detto sul viso francamente te rossi tu vali tutto più di me tu sei un uomo a confronto mio io ti rispetto e ti ammiro la piccola vedetta lombarda racconto mensile 26 sabato nel 1859 durante la guerra per la liberazione della lombardia pochi giorni dopo la battaglia di solferino e san martino vinta dai francesi e dagli italiani contro gli austriaci in una bella mattinata del mese di giugno un piccolo drappello di cavaleggeri di saluzzo andava di lento passo per un sentiero solitario verso il nemico esplorando attentamente la campagna guidavano il drappello un ufficiale e un sergente e tutti guardavano lontano davanti a sé con occhio fisso muti preparati a veder da un momento all'altro bianchezzare fra gli alberi le divise degli avamposti nemici arrivarono così a una casetta rustica circondata di frassini davanti alla quale se ne stava tutto solo un ragazzo di una dozzina d'anni che scortecciava un piccolo ramo con un coltello per farsene un bastoncino da una finestra della casa spenzolava una larga bandiera tricolore dentro non c'era nessuno i contadini messa fuori la bandiera erano scappati per paura degli austriaci appena visti i cavalleggeri il ragazzo buttò via il bastone e si levò il berretto era un bel ragazzo divisordito con gli occhi grandi e celesti coi capelli biondi e lunghi era in maniche di camicia e mostrava il petto nudo che fai qui gli domandò l'ufficiale fermando il cavallo perché non sei fuggito con la tua famiglia io non ho famiglia rispose il ragazzo sono un trovatello lavoro un po' per tutti sono rimasto qui per vedere la guerra hai visto passare degli austriaci no da tre giorni l'ufficiale stette un po' pensando poi salto giù da cavallo e lasciati i soldati lì rivolti verso il nemico entrò nella casa e salì sul tetto la casa era bassa dal tetto non si vedeva che un piccolo tratto di campagna bisogna salir sugli alberi disse l'ufficiale e discese proprio davanti all'aia si drizzava un frassino altissimo e sottile che dondolava la vetta nell'azzurro l'ufficiale rimase un po' sopra pensiero guardando ora l'albero poi tutto a un tratto domandò al ragazzo hai buona vista tu monello io risposi il ragazzo io vedo un passerotto lontano un miglio saresti buono a salire in cima a quell'albero in cima a quell'albero io in mezzo minuto ci salgo e sapresti dirmi quello che vedi di lassù se c'è soldati austriaci da quella parte nuvoli di polvere fucili che luccicano cavalli sicuro che saprei che cosa vuoi per farmi questo servizio che cosa voglio disse il ragazzo sorridendo niente bella cosa e poi se fosse per i tedeschi a nessun patto ma per i nostri io sono lombardo bene va su dunque un momento che mi levi le scarpe si levò le scarpe si strinse le cinga dei calzoni buttò nell'erba il berretto e abbracciò il tronco del frassino ma vada esclamò l'ufficiale facendo l'atto di trattenerlo come preso da un timore improvviso il ragazzo si voltò a guardarlo coi suoi begli occhi celesti in atto interrogativo niente disse l'ufficiale va su il ragazzo andò su come un gatto guardate davanti a voi gridò l'ufficiale ai soldati in pochi momenti il ragazzo fu sulla cima dell'albero avviticchiato al fusto con le gambe fra le foglie ma col busto scoperto e il sole gli batteva sul capo biondo che pareva d'oro l'ufficiale lo vedeva appena tanto era piccino lassù guarda dritto è lontano gridò l'ufficiale il ragazzo per vedere meglio staccò la mano destra dall'albero e si la mise alla fronte che cosa vedi domandò l'ufficiale il ragazzo chinò il viso verso di lui e facendosi portavoce della mano rispose due uomini a cavallo sulla strada bianca a chi distanza di qui mezzo miglio movono sono fermi che altro vedi domandò l'ufficiale dopo un momento di silenzio guarda a destra il ragazzo guardò a destra poi disse vicino al cimitero tra gli alberi c'è qualcosa che luccica paion baionette vedi gente no saranno nascosti nel grano in quel momento un fischio di palla acutissimo passò alto per l'aria e andò a morire lontano dietro alla casa scendi ragazzo gridò l'ufficiale t'han visto non voglio altro vieni giù io non ho paura rispose il ragazzo scendi ripete l'ufficiale che altro vedi a sinistra a sinistra sì a sinistra il ragazzo sporse il capo a sinistra in quel punto un altro fischio più acuto e più basso del primo tagliò l'aria il ragazzo si riscosse tutto accidenti esclamò l'hanno proprio con me la palla gli era passata poco lontano scendi gridò l'ufficiale imperioso irritato scende subito rispose il ragazzo ma l'albero mi ripara non dubiti a sinistra vuole sapere a sinistra rispose l'ufficiale ma scendi a sinistra gridò il ragazzo sporgendo il busto da quella parte dove c'è una cappella mi par di vedere un terzo fischio rabbioso passò in alto e quasi ad un punto si vide il ragazzo venire giù trattenendosi per un tratto al fusto e ai rami e poi precipitando a capofitto con le braccia aperte maledizione gridò l'ufficiale accorrendo il ragazzo batte la schiena per terra e restò disteso con le braccia larghe supino un rigagnolo di sangue gli sgorgava dal petto a sinistra il saggente e i due soldati saltarono giù da cavallo l'ufficiale si chinò e gli aprì la camicia la palla gli era entrata nel polmone sinistro è morto il clamò l'ufficiale no vive rispose il saggente ah povero ragazzo bravo ragazzo gridò l'ufficiale coraggio coraggio ma mentre gli diceva coraggio e gli premeva il fazzoletto sulla ferita il ragazzo stralunò gli occhi e abbandonò il capo era morto l'ufficiale impallidì e lo guardò fisso per un momento poi lo adagiò col capo sull'erba salzò e stette a guardarlo anche il saggente e i due soldati immobili lo guardavano gli altri stavano rivolti verso il nemico povero ragazzo ripete tristemente l'ufficiale povero e bravo ragazzo poi si avvicinò alla casa levò dalla finestra la bandiera tricolore e la distese come un drappo funebre sul piccolo morto lasciandogli il viso scoperto il saggente raccolse a fianco del morto le scarpe il berretto il bastoncino e il coltello stettero ancora un momento silenziosi poi l'ufficiale si rivolse al sergente e gli disse lo manderemo a pigliare dall'ambulanza è morto da soldato lo seppelliranno i soldati detto questo mandò un bacio al morto con un atto della mano e gridò a cavallo tutti balzarono in sella il trappello si riunì e riprese il suo cammino e poche ore dopo il piccolo morto ebbe i suoi onori di guerra al tramontare del sole tutta la linea degli avamposti italiani si avanzava verso il nemico e per lo stesso cammino percorso la mattina dal drappello di cavalleria procedeva su due file un grosso battaglione di bersaglieri il quale pochi giorni innanzi aveva valorosamente rigato di sangue il colle di San Martino la notizia della morte del ragazzo era già corsa fra quei soldati prima che lasciassero gli accampamenti il sentiero fiancheggiato da un rigagnolo passava a pochi passi di distanza dalla casa quando i primi ufficiali del battaglione videro il piccolo cadavere disteso ai piedi del frassino e coperto dalla bandiera tricolore lo salutarono con la sciabola e uno di essi si chinò sopra la sponda del rigagnolo che era tutta fiorita strappò due fiori e li gettò allora tutti i bersaglieri via via che passavano strappavano dei fiori e li gettavano al morto in pochi minuti il ragazzo fu coperto di fiori e ufficiali e soldati gli mandavano tutti un saluto passando bravo piccolo lombardo addio ragazzo a te biondino evviva gloria addio un ufficiale gli gettò la sua medaglia al valore un altro andò a baciargli la fronte e i fiori continuavano a piovergli sui piedi nudi sul petto insanguinato sul capo biondo ed egli se ne dormiva là nell'erba ravvolto nella sua bandiera col viso bianco e quasi sorridente povero ragazzo come se sentisse quei saluti e fosse contento l'aver dato la vita per la sua lombardia la vita l'arba gloria ma di abilir ma l'arba gloria Grazie a tutti.